questa è la condizione il contesto è quello quello che ci chiede il mondo è evidente che tutti noi abbiamo un limite in questo avremo il desiderio anche di poter essere in presenza quello che fa uno sguardo transpersonale è non nutrire cioè se io entro dentro in quella porta lì e ma però siamo davanti a uno schermo non è finisco in un mondo che mi porta lontano da me mi fa disperdere energie diventa un pretesto per non essere totale dove sono e per non mettere allora cosa mi chiede il mondo mi chiede di mettere delle qualità che di solito non metto che sono andare oltre le mie idiosincrasie l'equanimità del fatto che certe cose non mi piacciono per seguire il mio sé in un'ottica pur accogliendo cioè se io l'io l'io la mente razionale funziona secondo piacere dolore faccio ciò che mi piace non faccio ciò che non mi piace il trascendimento inclusione di questo cioè il sé ti richiede di facendere includere ciò che piace ciò che non piace verso il grande bene il vero il bello e il buono no del sé che sono oltre il la giusta azione transpersonale oltre il piacere il dolore oltre il giusto e lo sbagliato ordinario morale è oltre appunto ciò che più mi fa mi è affine e meno la sfida è quella ok prendiate così trascendi e includi mettici tu quello che vorresti che il mondo ti mettesse non c'è quindi ci vorrà un maggiore senso di ascolto e di contatto perché è vero che non siamo in presenza anche a me è chiaro che manca tantissime cose però guarda i volti non siamo solo un quadratino nello schermo ci sono dei mondi guarda quanti mondi stiamo da calta misetta al portogallo a salisburgo palermo a salerno verona cioè quanti mondo oltre al fatto all'allocazione a quanti mondi a quante storie tu ma come tanti di voi siete avete delle risorse dei percorsi infiniti in ingegnere neuroscienze tu che stai facendo un dottorato a salisburgo sei qui e così via la dottoressa lì che ha rinunciato mi sembra psichiatria in svizzera quanti mondi ci sono qua e ovviamente ci viene richiesto a noi di vederlo perché se stiamo noi una delle cose che noi abbiamo come epistemologia della vita è c'è la prima attenzione e la seconda attenzione nella prima attenzione c'è a siamo davanti uno schermo stiamo facendo una lezione ci stiamo presentando nella seconda lezione ci sono tutti questi mondi qua che ci portano tutta questa infinita ricchezza cogliere fare questo sforzo tra virgolette di seconda attenzione di vedere ciò che c'è oltre le apparenze grazie a tutti